Lecce, Ravenna, Cagliari, Siena, Perugia, Sisi che si sono dovute arrendere davanti alla proclamazione di Matera come capitale europea per il 2019 possono finalmente programmare su un budget certo l'organizzazione delle attività culturali e di quelle promozionali ma anche piccoli investimenti in infrastrutture. Ne ha dato la notizia nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco di Lecce Paolo Perrone che nelle sue vesti di vicepresidente Vicario del Lanci ha partecipato al tavolo permanente su cultura e turismo presso la sede del ministero. Erano diversi i punti all'ordine del giorno, risposte rassicuranti sono venute anche sul fronte del fondo di 3 milioni di euro per le attività culturali da realizzare nelle periferie. Per quanto riguarda l'istituzione dei cosiddetti poli, museali, cittadini dove far convergere i contenitori statali e comunali è stata annunciata una sperimentazione che riguarderà invece Torino, Firenze, Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Sisi, Perugia e Bari. Un altro tema affrontato è stato quello del trasferimento delle competenze della provincia per la parte che afferisce al settore culturale sulla questione è stato costituito infatti un tavolo al quale prenderanno parte gli enti interessati per cercare di evitare che musei e biblioteche provinciali restino a breve senza fondi.